Fare qualcosina in più sarebbe stato possibile, sì certamente, ma ricordiamoci che come hai detto te Sonia giocavamo contro una squadra che è seconda in classifica e che ti fa giocare male perché gioca uomo tutto campo, ti pressa continuamente e secondo me è la squadra più, sotto l'aspetto del pressing offensivo, più forte che ci sia. Per questo infatti abbiamo fatto fatica a creare le nostre azioni, però abbiamo avuto alla fine, mi ricordo solo una grande occasione con Barba nel primo tempo che è stato bravo il difensore, potevamo creare di più certo, però alla fine la grande squadra che è l'Atalanta è uscita e ci ha fatto giocare anche per merito loro un po' male rispetto a quello che speravamo, assolutamente perché appena finita la partita in spogliatoio subito per quanto riguarda me ho preso il telefono perché ho visto il risultato di Torino e Spezia. Ora sabato prossimo aspetteremo il risultato ma sappiamo che indipendentemente dal risultato di sabato noi dobbiamo fare due vittorie, come o in che modo non mi interessa ma dobbiamo fare due vittorie e portare a casa sei punti, è l'unico modo che abbiamo per salvarci e non possiamo lasciare la Serie A che ci siamo tanto guadagnati l'anno scorso in maniera così facile. Assolutamente, nessuno l'ha mai smesso perché sappiamo cos'è la Serie A e sappiamo cos'è la Serie B, non vogliamo lasciare andare subito tutto ciò che ci siamo guadagnati l'anno scorso con così tanta fatica e con così tanto merito, per cui fino alla fine siamo vivi. Poi se la matematica ci condannerà prima del dovuto, il match con il Crotone sappiamo per la tifoseria quanto vale, sappiamo per noi quanto vale in questo preciso momento perché sono due partite in cui ci giochiamo tutto, sono due partite fondamentali, sono due partite da dentro fuori. Questo dimostrerà chi saremo e se non porteremo a casa già domenica i tre punti sarà un peccato perché vorrà dire che saremo condannati, però penso che la squadra affronterà la partita con la mentalità giusta come secondo me abbiamo affrontato la partita con la mentalità giusta col Cagliari, poi si è stati puniti da un episodio arbitrale di cui non mi va neanche di parlarne proprio adesso, però andremo avanti con quella mentalità che abbiamo dimostrato col Cagliari e secondo me anche oggi contro un avversario diverso, però daremo tutto noi stessi perché come ho detto prima non vogliamo lasciare andare questa Serie A così facilmente. Ma guarda, nel calcio è vero che si possono perdere dei punti come è vero che se ne sono guadagnati magari in maniera ingiusta da altre parti, se mi chiedi quali sono le partite che cambierei te ne posso dire due, cioè Torino e Parma a ritorno perché sono due partite in cui secondo me abbiamo subito gol a mio parere ingiusti negli ultimi minuti ed è per questo che potevamo portare a casa i tre punti, abbiamo portato a casa solamente un punto e ovviamente a fine campionato quei punti lì ci pesano, quindi se dovessi scegliere, sceglierei quelle due partite lì. No, assolutamente paura no perché come abbiamo dimostrato secondo me anche col Milan paura di attaccare contro le grandi squadre non ne abbiamo, anzi non abbiamo niente da perdere noi rispetto a loro per cui possiamo tranquillamente attaccare. Secondo me è merito dell'Atalanta che tra virgolette ci ha stancato sotto il profilo fisico e poi non entro nel merito perché non sono il preparatore, non so come stavano fisicamente i miei difensori o gli esterni però secondo me non è un fatto di testare la paura di consegnare i più gol ma solamente un fatto fisico a mio parere. Guarda, ti dico la verità, rispetto come problemi mentali non penso che ne abbiamo, magari abbiamo un po' di timidezza ma non si respira questo nello spogliatoio, si respira una grande grinta e una grande voglia di andare a fare il risultato forse è la troppa voglia che ci spinge che nei primi minuti ci fa andare magari troppo tra virgolette allo sbaraglio per prendere il gol ma non posso dire che è un fatto mentale, secondo me è proprio un fatto dovuto al merito degli avversari perché noi affrontiamo le partite secondo me con l'atteggiamento giusto e questo lo dimostreremo anche nelle due partite che verranno quindi sicuramente non dipende da quello.